Ci troviamo a Brusuglio dove abbiamo questo bel tre locali di 120 metri quadri con pavimentazione in marmo, doppia esposizione, una cucina abitabile con il suo balcone di servizio, la vedete lì in fondo, e giardino condominiale con questo bel balcone che adesso vediamo. Eccolo qua, qui il giardino, è un bell'appartamento da venire a vedere, comunque trovate tutte le foto, anche quelle 360, sul nostro sito www.interlineaweb.it, vi aspetto, ciao!